Per virtù dello Spirito Santo porta a questo titolo il nuovo lavoro teatrale dell'Associazione Shalot che torna in scena lunedì e martedì prossimi all'atrio inferiore del Palazzo Municipale di Sciacca. Si tratta di un testo scritto da Tonino Genuarti che vede in scena 12 personaggi le cui vicende si intrecciano all'interno di una comunità parrocchiale. Ci dobbiamo aspettare una solita commedia brillante che è stata messa in scena in un brevissimo tempo e quindi siamo orgogliosi di questo perché anche noi non eravamo sicuri all'inizio qualcuno era detubando sul fatto di portarla in scena ora visto che l'opera è stata iniziata dopo Carnevale ma fortunatamente ci siamo riusciti. Che cosa ci aspetta? Che tipo di storia ci racconterete? La storia a me piace spaziare nel tempo quindi le mie opere spaziano dagli anni 50 ai giorni nostri questa è un'opera che è stata basata negli anni 80 e il narratore è nei giorni nostri quindi sta raccontando una storia che è avvenuta negli anni 80 frutto di fantasia. Il vostro è un gruppo affietato ormai da diversi anni un cast di attori, chiaramente parliamo di teatro amatoriale però è un bel gruppo e poi tutto ciò emerge nella rappresentazione. Allora il gruppo è stato costruito, costruito appositamente, cercato e voluto e quindi ogni giorno siamo alla ricerca proprio del, come dire, della condivisione di tutto compreso litigi, abbracci, baci e tutto quello che ci può stare però diciamo che siamo molto uniti e questo forse è il segreto di Shaloh. Il 7 e 8 agosto vi aspettiamo alle 21 all'adro inferiore comunale. Un gruppo molto affietato, quello di Shaloh, che con virtù dello spirito santo porta in scena la quarta commedia con testi originali scritti e diretti da Tonino Genuardi ma realizzati grazie al lavoro istancabile di tutti i componenti del sodalizio. È una commedia divertente, brillante, come d'altronde sono tutte le nostre commedie e il titolo si svelerà poi alla fine, si capirà alla fine perché è per virtù dello spirito santo e la trama diciamo che è un po' è carina perché è un avvicendarsi di storie che girano tutte attorno a una persona che sarebbe diciamo l'uscchetturanni della situazione tutte queste ragazze che vorrebbero prendere marito e ambiscono proprio alla persona che è più importante, più ricca del paese e quindi tutto gira intorno a lui. Che cosa rappresenta anche per lei fare del teatro, farlo chiaramente in una realtà in cui tutto poi è complicato senza le strutture, senza i supporti necessari? Per me rappresenta anche soprattutto un evadere dalla mia quotidianità quindi è poi un mio sogno che avevo sempre desiderato fare teatro e con questa opportunità, insomma con questo gruppo mi sto realizzando un po' nel mio desiderio. Che cosa possiamo dire quindi per invogliare chi ancora non ha acquistato il biglietto, non ha prenotato per venirvi a vedere? Anche quest'anno pensiamo di non deludere le aspettative del nostro pubblico quindi io invoio proprio loro a venirci a vedere perché si divertiranno sicuramente e passeranno una bella serata.